Grazie Presidente, anche il gruppo di Fratelli d'Italia ovviamente si rappresenta la propria vicinanza non solo al giornalista, ma mi permetterete di aggiungere anche alla famiglia di Willy, il povero ragazzo che è stato in maniera assolutamente inconcepibile massacrato. E veniamo però ai fatti di quest'Aula, veniamo al decreto di cui discutiamo oggi e vedete fa un po' specie che iniziando a parlare di un decreto la cui titolazione, siccome ormai siamo abituati a parlare per definizioni generiche, fa un po' specie che oggi ci troviamo a parlare del cosiddetto decreto semplificazioni e che la relatrice di minoranza parta nella sua relazione definendolo un provvedimento complesso. Ecco, già questo ci dà un po' la sensazione di quello che è avvenuto e devo dire rappresento il mio personale rammarico sul fatto che in realtà non è stato possibile, ma ormai a questo siamo abituati, discutere all'interno delle commissioni il provvedimento anche in questo ramo del Parlamento. Come sappiamo questo è un provvedimento sostanzialmente discusso e definito al Senato e diciamo tolta la parte della discussione generale poco ci sarà da aggiustare e di questo siamo già consapevoli talmente tanto consapevoli che il gruppo di Fratelli d'Italia proprio per onestà intellettuale ha ritenuto di non presentare emendamenti in commissione, lo faremo direttamente in Aula perché sapevamo che quel passaggio era un passaggio assolutamente inutile e formale e a noi invece piace dare sostanza ai dibattiti e alle discussioni che intavoliamo. E devo dire che proprio parlando di semplificazioni mi viene l'osservazione più semplice cioè il termine semplificazioni, cosa vuol dire semplificare? Beh, insomma lo sappiamo tutti o quantomeno dovremmo saperlo, vuol dire rendere più agevole, funzionale, facilitare, agevolare ecco tutto ciò di cui gli italiani in realtà hanno bisogno non soltanto ora e in virtù dell'emergenza Covid l'esigenza di semplificare la nostra burocrazia, di semplificare le nostre procedure di dare uno slancio alla nostra nazione verso il futuro è un'esigenza che ormai abbiamo da tantissimo tempo, da troppi anni e certo quello che abbiamo vissuto nei mesi del lockdown e attraverso l'emergenza Covid ha messo in evidenza tutte le fragilità della nostra nazione e del nostro sistema e devo dire che il testo iniziale era sicuramente senza dubbio una base interessante dalla quale partire seppure una base incompleta e imprecisa in moltissime delle sue parti era però, su questo dobbiamo essere tutti d'accordo, un provvedimento atteso era soprattutto un provvedimento urgente che tanti settori attendevano e proprio perché investe diversi ambiti e la discussione che c'è stata al Senato e mi rifaccio a quella perché insomma come ho detto anche all'interno della Commissione in questo ramo del Parlamento di fatto discussione non ce n'è stata sono state sentite migliaia di persone che vengono dal mondo reale e produttivo sono state ascoltate le categorie, sono state ascoltate le associazioni e noi ci saremmo aspettati quindi a seguito proprio di questa lunga fase di audizione che c'è stata in Commissione al Senato ci aspettavamo che a seguito di questo ci sarebbe stato il recepimento da parte del governo delle richieste che provengono dal mondo reale cioè da quel mondo reale che ormai purtroppo sembra completamente slegato e avulso da quelle che sono le priorità e le esigenze dei gruppi di maggioranza e a maggior ragione di questo governo che preferisce percorrere delle proprie strade alle volte parecchio fantasiose e strampalate piuttosto che invece dare un riscontro reale a quelle che sono le esigenze dei nostri territori e vedete questo è successo in tutti gli ambiti affrontati da questo provvedimento dalle opere pubbliche alla giustizia, ai trasporti, agli enti locali alla digitalizzazione, l'innovazione, l'ambiente, all'energia e devo dire per quanto i colleghi di Fratelli d'Italia al Senato abbiano provato a migliorare questo provvedimento e a far in modo che venissero rilevate le parti negative e quindi quello che in realtà non andava affatto bene devo dire che purtroppo i gruppi di maggioranza come spesso è accaduto in questa parte della legislatura sono stati completamente sordi alle nostre istanze sono ovviamente felice che in qualche occasione il suggerimento del gruppo di Fratelli d'Italia sia stato accolto se non sotto forma di emendamenti quantomeno perché i nostri emendamenti poi sono stati copiati e fatti proprio dalla maggioranza e qual è il tema? Il tema che avremmo veramente dovuto semplificare e mi viene in mente che forse saremmo dovuti partire proprio dalla madre delle semplificazioni cioè dalle tasse e dal sistema della tassazione italiana ma invece ci siamo ritrovati un provvedimento che più che semplificare va nella direzione proprio della complicazione come diceva la collega un provvedimento complicato sì, in realtà i gruppi di maggioranza si sono complicati la vita in alcuni casi abbiamo allungamento dei tempi e in asprimento della burocrazia e questo ovviamente è il primo dato che noi rileviamo cioè l'assenza totale di rapporto con la praticità con la pragmaticità che poi determina questi allungamenti e ne è la prova che il gruppo del Movimento 5 Stelle proprio all'inizio della discussione del provvedimento ha presentato in Senato oltre 2.000 emendamenti quindi diciamo questo dà un po' il quadro completo e chiaro di quanta questa semplificazione sia semplicemente un termine rindondante ma poi non venga utilizzato nella pratica e insomma diciamo che ormai siamo un po' abituati nel senso che ovviamente quando si tratta dei cittadini andiamo incontro alle complicazioni quando poi invece c'è da sistemare ed agevolare qualcosa che sta a cuore al movimento poi si fa in fretta e diventano bravissimi a scavalcare qualunque procedura e allora ci ritroviamo di fronte a un provvedimento nel quale ancora una volta l'ideologia del Movimento 5 Stelle che trascina poi gli altri partiti che compongono la maggioranza abbia di fatto partorito un topolino quindi da quella che doveva essere la madre di tutte le riforme di questa seconda parte della legislatura ha in realtà partorito un topolino e così ci ritroviamo in una situazione in cui mentre noi vorremmo dare fiducia ai lavoratori e voi continuate a valutare i privati come delinquenti a prescindere mentre noi cerchiamo di agevolare chi ha iniziativa privata voi continuate a denigrare quelle posizioni al Senato un collega ha definito gli imprenditori dei prenditori ecco questo dà la sensazione della ideologia che pervade i movimenti che compongono la maggioranza di governo e questa è una vera vergogna io partirei dall'articolo 10 da quanto quell'articolo sia stato stravolto andando a devastare e lo dico con cognizione di causa devastare la possibilità di incentivare la rigenerazione urbana e questo vedete non è soltanto non è un tema spicciolo è un tema sostanziale soprattutto per chi come il Movimento 5 Stelle aveva fatto della bandiera ambientalista la propria coperta di Linus e vedete lo dico a ragion veduta perché nel momento in cui si dibatte del decreto semplificazioni che dovrebbe dare respiro e slancio al mondo del lavoro e dovrebbe eliminare vincoli, costi e paletti proprio per dare la possibilità come dicevo di modificare in meglio le nostre realtà locali e quindi attraverso la rigenerazione urbana noi ci ritroviamo invece un articolo 10 che prevede questo tipo di facilitazione soltanto in relazione a quella edilizia che costruisca nelle nuove aree verdi e a me questo sembra onestamente un paradosso è un paradosso perché facilitiamo le nuove costruzioni facilitiamo la cementificazione lì dove invece avremmo dovuto agevolare e facilitare proprio la rigenerazione urbana senza considerare che a tutto questo è stato aggiunto un faragginoso procedimento con i sindacati per cui adesso sostanzialmente noi ci ritroveremo in tutte le salse la necessità, anzi l'obbligo per esempio anche da parte dei commissari di convocare i sindacati e a me questo onestamente non sembra una semplificazione mi sembra invece un aggravio sostanziale della nostra burocrazia che invece andava alleggerita e a questo ovviamente si aggiungono tantissimi altri temi come ho detto non possiamo ovviamente trattarli tutti perché dovremmo fare una discussione molto lunga ma indubbiamente abbiamo dei macro punti che vanno sicuramente affrontati e allora come dicevo quello dell'appalti è un tema ma mancano anche tantissimi altri elementi mancano per esempio i voucher per i lavoratori dell'agricoltura e del turismo manca una maggiore attenzione al mondo dei disabili alla lingua dei segni non udenti a chi è costretto a muoversi con la carrozzina mancano gli appalti a chilometro zero manca l'alleggerimento delle procedure attraverso per esempio l'eliminazione del modello F23 mancano misure concrete a favore dello sviluppo e della ricerca per favorire l'economia circolare manca per esempio ancora una vera semplificazione delle valutazioni di impatto ambientale e come dicevo prima manca quella che è a mio avviso la madre di tutte le semplificazioni cioè quella sulle tasse che pure gli italiani aspettano da tantissimo tempo e che rendono questo paese ingessato e incapace di porsi sui mercati internazionali in modo competitivo e devo dire che un altro elemento che fa davvero riflettere proprio all'interno di questo decreto semplificazioni è una proposta del Movimento 5 Stelle che poi è entrata a far parte di questo testo che prevede la soppressione a tutto il 2023 delle procedure di dibattito pubblico preventivo alla realizzazione di opere pubbliche di rilevanza sociale e con impatto ambientale cioè nella sostanza hanno eliminato la possibilità per i cittadini di partecipare alla discussione su temi che sono sempre stati ritenuti fondamentali proprio dai 5 Stelle e questo devo dire a questo punto ormai non mi stupisce che il Movimento 5 Stelle non abbia più la propria indole iniziale questo è sotto gli occhi di tutti e chiunque abbia un minimo di capacità di critica lo sa valutare ma quello che fa specie è proprio l'atteggiamento anche tenuto all'interno delle commissioni per cui fatti così importanti come quello del confronto con la città su temi che sono importantissimi per la città mi viene in mente quello che succede a Taranto per esempio con la questione ILVA io ricordo da Tarantina le battaglie che aveva fatto il Movimento 5 Stelle proprio su quel territorio beh noi partiamo da quel tipo di atteggiamento arriviamo ad oggi in cui invece non viene prestato più attenzione o interesse proprio alle istanze che provengono dalla base e oltre ovviamente l'articolo 10 c'è un tema importantissimo anche sulle infrastrutture non ci sono veri elementi che diano la possibilità di sperare quanto meno che in un prossimo futuro ci sia una strategia infrastrutturale che porti ad esempio il Sud quantomeno agli stessi livelli delle regioni del Nord e che renda finalmente l'Italia unica nelle sue potenzialità e fra tutto questo non possiamo dimenticare ovviamente una norma che da diciamo avvocato credo abbia un interesse non marginale perché vedete quando si fa una modifica al codice è importante che quella modifica passi attraverso una riforma strutturale invece noi ci siamo abituati in questi mesi attraverso l'abuso dell'utilizzo del decreto legge ci siamo abituati a vedere queste modifiche fatte un po' a spezzoni che poi perdono il concetto generale mi riferisco ovviamente all'articolo 23 e alla sua modifica che elimina un principio cardine stabilito anche dagli articoli 3 e 97 della nostra Costituzione ma che è anche ricompreso in numerosissime disposizioni di legge ordinaria che nella sostanza impongono ai dipendenti pubblici di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa ecco quella del codice la norma del codice che viene modificata e insomma chi mastica un po' di diritto lo sa è una norma di chiusura e ovviamente eliminando la norma di chiusura adesso si lascia un'apertura troppo invasiva rispetto alle procedure ma soprattutto troppo invasiva rispetto alla interpretazione autentica autentica della norma e vedete noi diciamo il concetto principale è che nel momento in cui esistono delle norme che recepiscono il buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione noi dobbiamo fare un bilanciamento di interessi e quando si modifica una parte del codice quella parte andrebbe modificata in relazione a tutte le altre norme cercando di capire la costruzione di quel codice e invece questa modifica entra a gamba tesa tra l'altro senza una vera discussione parlamentare e modifica un aspetto sostanziale proprio perché il 323 è una norma di chiusura che inciderà poi anche lo vedremo sui regolamenti e allora credo che e mi avvio alla conclusione credo che questo provvedimento questo provvedimento aveva sicuramente delle grandissime ambizioni credo che all'interno di un unico provvedimento non si possa dare risposta a tutte le esigenze della nostra nazione a tutti i comparti a tutte le categorie e forse questa è una di quelle mancanze che imputerei al governo cioè l'incapacità di prendere i singoli temi di affrontarli in maniera strutturale ed organica e una volta aver risolto un problema passare a quello successivo anche in questo caso ci siamo trovati di fronte a un provvedimento amplissimo che prendeva in considerazione tantissimi, troppi elementi da rimaneggiare e che sicuramente andavano rimaneggiati ma soprattutto all'ambizione iniziale di questo provvedimento non è seguita alcuna concreta risposta ai territori sicuramente ci sono delle parti che vanno salvate purtroppo però la maggior parte di questo provvedimento andrebbe non migliorato perché tutto è perfettibile ma andrebbe sostanzialmente cambiato grazie la ringrazio grazie grazie grazie